Cerchi un profumo buono, dolce, intenso, forte, che non costi tanto. Ho la risposta per te. L'homme suave, Roberto Capucci. Qua ragazzi, ve lo faccio vedere. Ecco qua. Ce n'è un bel po'. La bottiglia ha questa forma molto particolare, carina, si espone anche bene, ma l'importante è che faccia il suo dovere, ossia che profumi, profumi talmente tanto da essere guardati da tutti. Con questo addosso tutti vorranno odorarvi, tutti diranno che è buon profumo. Piacerete ancora di più ragazzi, farete ancora più colpo. E dato che è una grandissima cavolata, che tutti i profumi si spruzzano nella stessa maniera, no, perché dipende dalla fragranza, dal gusto, dal dottore che manano, da quanto durano, da tante, tante cose. Questo in particolare si spruzza così. E ora vi faccio vedere. Ogni profumo ragazzi si spruzza a modo suo. Non c'è una spruzzata universale. Ognuno deve essere spruzzato a modo suo e ognuno deve avere il numero di spruzzate giuste. Questo in particolar modo si spruzza così. Ecco come si spruzza. Tra il collo e la maglietta, davanti, stesso discorso di qua, tra il collo e la maglietta, tra la maglietta e il collo, dietro, poi maglietta 1, maglietta 2, maglietta 3. Basta. E con questo rimorchio assicurato. Iscriviti al canale, lascia un bel mi piace, commenta il video, condividi il video, seguimi sugli altri social, iscriviti agli altri canali YouTube, trovi tutti i link in the box e noi, come al solito, ci becchiamo al prossimo video.